I Sanniti erano un popolo italico che viveva nell'Appennino meridionale, tra l'odierno Molise e la Campania. Le loro origini sono incerte, ma si ritiene che siano migrati da regioni centrali dell'Italia verso sud nel VII secolo anno corrente. Il territorio del Sannio era diviso in quattro tribù principali, Carricini, Pentri, Caudini e Irpini.Società e Cultura. I Sanniti erano un popolo di guerrieri pastori. La loro società era basata su una confederazione di tribù, con un'organizzazione politica e militare decentralizzata. La religione era politeista e i Sanniti adoravano una serie di divinità, tra cui Marte, Diana e Minerva. Le città e l'essenzialità. Conflitti con Roma. I Sanniti furono acerrimi nemici di Roma per tre secoli, dal IV al II secolo anno corrente. Le guerre Sannitiche furono una serie di conflitti che videro la vittoria finale dei Romani. La sconfitta dei Sanniti segnò la fine della loro autonomia e la loro integrazione nella Repubblica Romana. I Sanniti erano noti per la loro abilità militare e per la loro ferocia in battaglia. Erano anche esperti artigiani e producevano armi, armature e oggetti di ornamento di alta qualità. La loro lingua, l'osco, era una lingua italica che è stata in gran parte dimenticata. La seconda guerra Sannitica, combattuta fra il 326 e il 304 anno corrente, vedrà ancora prevalere Roma. Ma questa volta il successo arriverà dopo lunghe battaglie e il rischio concreto di perdere interamente il proprio esercito. Nel 321 anno corrente, infatti, i Romani subiscono la pesante umiliazione delle forche caudine. L'intero esercito romano è accerchiato e si arrende. I Sanniti risparmiano la vita dei legionari ma li costringono a passare sotto il gioco e a consegnare le armi. Tuttavia, i Romani riescono a rialzarsi e a riconquistare terreno gradualmente, fino a che nel 304 anno corrente sconfiggono i Sanniti nella battaglia di Bovaianum. L'ultimo conflitto segna la vittoria definitiva dei Romani, i quali però devono vedersela per la prima volta con una coalizione di italici guidata dai Sanniti, che comprende anche Etruschi, Galli ed Umbri. La battaglia decisiva è quella del Sentino, mentre l'ultima avviene ad Aquilonia, dove i Sanniti schierano, in un tentativo disperato, la temibile Leggio Linteata. La Leggio Linteata è una legione speciale consacrata al Dio Marte attraverso un rito cruento. Racconta Livio che i più nobili agguerriti guerrieri Sanniti furono chiamati all'interno di un recinto sacro, per l'occasione coperto da un telo, un linteum, appunto. Chi veniva fatto entrare doveva giurare di non rivelare a nessuno cosa accadesse nel recinto e, sebbene Tito Livio tenda ad enfatizzare a volte un po' troppo gli avvenimenti e a calcare un po' la mano con effetti drammatici e patetici, attraverso le sue parole noi possiamo entrare in contatto con quell'atmosfera tetra e carica di tensione che contraddistinse l'ultimo atto della Terza Guerra Sannitica e segnò la definitiva, sconfitta del Sannio. L'intero apparato della cerimonia era allestito in modo da suscitare negli anime terrore religioso. Contribuivano a questo effetto soprattutto gli altari al centro del recinto integralmente coperto, le vittime sgozzate intorno agli altari e i centurioni in cerchio, con le spade in pugno. I convocati venivano fatti avvicinare agli altari più come vittime che come effettivi partecipanti al sacrificio e dovevano giurare di non rivelare quanto avevano visto o sentito in quel punto. Mediante una formula intimidatoria venivano costretti a giurare che sarebbero state maledette le loro persone, la famiglia e la stirpe. Qualora non fossero scesi in campo lì dove i comandanti li guidavano o se avessero abbandonato il campo di battaglia, o ancora, se vedendo qualcuno darsi alla fuga non lo avessero ucciso immediatamente. La Seconda Guerra Sannitica fu combattuta tra Roma e il popolo Sannita dal 326 al 304 anno corrente. La guerra iniziò a causa della fondazione della colonia romana di Fregelle, nel territorio Sannita. I Sanniti, guidati da Gaio Pontio Telesino, formarono una lega con Etruschi, Umbri, Lucani e Sabini per contrastare l'espansione romana. La guerra fu lunga e difficile per Roma. Ma la città riuscì a risollevarsi e a riprendere l'iniziativa bellica. Nel 315 anno corrente, i Romani ottennero una vittoria decisiva nella battaglia di Lautule, che segnò l'inizio della loro riconquista del territorio Sannita. Nel 305 anno corrente, i Romani sconfissero definitivamente i Sanniti nella battaglia di Boviano, che pose fine alla guerra. La Seconda Guerra Sannitica fu un momento decisivo nella storia di Roma. La vittoria romana segnò la definitiva affermazione della città come potenza dominante nell'Italia centrale. Grazie. 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 Grazie.